Non posso dire che la posizione in Commissione Giustizia e il PD sia stata uguale a quella del PDL e quindi ho fatto le giuste distinzioni, quindi sotto questo profilo c'è una netta divaricazione di posizioni. Diciamo che forse da Zingaretti mi aspetto un salto, c'è tanta vaghezza nei suoi programmi, è molto bello l'immaginazione, i sogni, forse se passasse alla concretezza ci si potrebbe confrontare meglio e cioè come la vuole combattere questa corruzione, come vuole fare i modelli organizzativi, forse mi aspetto un po' di più.